Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. La storia tra Smáffares e Cristiano Lozupone, nata sotto i riflettori di uomini e donne, è ormai un ricordo. La coppia, protagonista dell'ultima stagione del Trono Over, ha visto la propria relazione naufragare, lasciando dietro di sé solo polvere e domande. In molti sospettano che le dinamiche televisive abbiano giocato un ruolo fondamentale nella fine della loro storia, ma Smáff ha deciso di raccontare la sua verità attraverso i social. Smáff ha confermato la rottura tramite delle Instagram Stories, spiegando che la crisi emersa negli ultimi giorni non è stata superata. È stata lei a decidere di chiudere la relazione, una scelta che sembra essere stata inevitabile a causa di un problema molto specifico, la gelosia di Cristiano. Secondo Smáff, la gelosia di Cristiano ha superato il limite del sano, diventando un'ossessione ingestibile, che ha reso impossibile proseguire il rapporto. Smáff ha dichiarato di aver amato Cristiano sinceramente, ma che il rispetto e la fiducia sono elementi imprescindibili in una relazione, persino più dell'amore stesso. Quando la gelosia inizia a soffocare la libertà e la serenità, diventa insostenibile continuare. Così, con molto dispiacere, Smáff ha deciso di prendere un'altra strada, scegliendo di non tollerare più situazioni che le provocano sofferenza. Ha ribadito di non avere rimpianti e di non aver mai dubitato dei suoi sentimenti, ma ha anche sottolineato che la sua felicità e la sua libertà di vivere sono prioritarie. Nonostante i sospetti di chi segue le vicende di uomini e donne, che insinuano che la rottura sia avvenuta strategicamente prima dell'inizio delle nuove registrazioni del programma, Asmá sembra ferma nella sua decisione. Per molti, la tempistica alimenta il dubbio che Asmá possa tornare nel programma per cercare un nuovo amore, ma per ora, la sua scelta sembra essere dettata da una necessità personale di pace e serenità. Le relazioni nate sotto i riflettori spesso non resistono alle pressioni esterne e alle insicurezze interne. Cosa ne pensi? Lascia un commento! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie! Grazie!